Il 7 maggio tutto il personale della scuola voterà per rinnovare il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. I seggi saranno aperti nelle scuole dalle 8 alle 17. Si voterà su liste che riguardano tutte le figure professionali, insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria, scuola media di primo e secondo grado, personale ATA, dirigenti scolastici. Da qui al 7 maggio spiegheremo in modo dettagliato le modalità di voto. Ora è cruciale soprattutto richiamare l'importanza dell'organismo che dovremo eleggere. Si tratta del massimo organo collegiale della scuola che fra l'altro, come si legge sul sito del Ministero, ha una funzione di garanzia dell'unitarietà del sistema di istruzione. Il Ministro dell'Istruzione ha l'obbligo di sottoporre al Consiglio tutti gli atti dell'amministrazione e governo del sistema scolastico, sui quali l'organismo esprime il proprio parere. Lo ha fatto l'anno scorso 43 volte, esaminando provvedimenti che hanno sempre una ricaduta sulle condizioni di lavoro del personale. Ecco perché è fondamentale avere una rappresentanza che assicuri competenza, equilibrio e responsabilità. Noi siamo in campo per questo, con le nostre liste e le renderemo note pubblicamente il 7 marzo, dopo che il nostro Esecutivo nazionale ne avrà ratificato la composizione. Saranno riportate sulle schede di voto con questa denominazione, Cisla Scuola in prima persona al plurale. Grazie alle nostre candidate e ai nostri candidati, a voi chiedo di impegnarvi fin d'ora, insieme a noi, perché possano raccogliere il più ampio consenso. Un impegno che deve coinvolgere ciascuno e tutti. Cisla Scuola in prima persona al plurale. Grazie a tutti.